In epoca di coronavirus, amici miei, qualche idea nuova dobbiamo pur farcela venire. E oggi, in questo video, non vi do un antitodo per il coronavirus, ma vi do un antitodo anti-antisocialità del coronavirus. Perché se c'è un problema che crea questo benedetto virus è il fatto che dobbiamo stare chiusi in casa e non abbiamo la possibilità di comunicare normalmente con le persone che ci stanno fuori. Non possiamo parlargli one to one e non possiamo abbracciarli, non possiamo stringergli la mano. Allora, un'idea nuova, visto che Grandi Bottiglia è un'azienda che fa tutta la differenza del mondo, è semplice, semplice questa idea che aiuterà la socializzazione. Voglio che diventi assolutamente un trend questa idea. Mettiamo dietro una bottiglia di vino, ad esempio questa. Dietro o all'interno di una cassetta personalizzata, qualsiasi altro accessorio, un semplice QR code. La persona che farà il regalo caricherà tramite il nostro sito web, qualsiasi file, che sia un file audio, che sia un testo, oppure anche un video. Pensate che bello. E la persona che riceverà la bottiglia, il regalo, dovrà fare solo questo. E magicamente, guardate qua che cosa capita. E magicamente, guardate qua che cosa capita. E' un'idea semplice, semplice, un'idea super sociale, è un trend e dobbiamo assolutamente farlo partire perché ci darà la possibilità di comunicare ancora meglio. Fate un regalo, fra virgolette, anti-coronavirus che in questo momento abbiamo bisogno di sdramatizzare in maniera assoluta. Alla prossima amici miei! Alla prossima amici!